buongiorno sure e buongiorno sur benvenuti in questo nuovo video oggi video video collaborazione con gli estai finalmente sono stata selezionata da gli estai appunto come influencer per farvi vedere la skin care la skin care perfetta per avere una pelle luminosa idratata e e ama combattere le rughe quindi diciamo senza rughe ma esagerato quindi sono super felice di fare questa collaborazione grazie gli estai è un piacere collaborare con te dopo tanto tempo che compro sempre prodotti anche con buon sconti ma li contro questa volta sono arrivati gratuite sono super felice poi volevo dirvi che bene fare come sto con questa parrucca ve la ricordate che ve l'ho fatta vedere nell'ordine che avevo fatto su gli estai l'avevo trovato in super offerta e come sto cosa dite a me piace un sacco allora di solito quando uno cambia capelli da un po quel quel flash non ho avuto mi piace tantissimo però che anche il colore sia sia molto molto bello che dite a guardare della sembra la parrucca o no io direi di no va bene non perdiamoci in chiacchiere vediamo cosa mi ha mandato gli estai qua ho la scatolina con un sacco di prodotti mi hanno mandato se non sbaglio sei prodotti per avere la skin care perfetta per cui iniziamo dal detergente viso che è questo qui si chiama cica barrier punto 5.5 state ok ok quindi lo faccio vedere ma comunque vi metto qui il video dove io lo uso così vi faccio anche vedere come insomma questo è il pack del detergente che rimuove efficacemente lo sporco dalla pelle e va ad eliminare l'eccesso di sebo arricchito con estratto di centella asiatica per lenire la pelle irritata dex pantenolo per fornire la vitamina b5 e idratazione ha una formula ipo allergenica priva di fragranze e coloranti artificiali adatto a tutte le pelli sensibili il nostro detergente per il viso allora ovviamente qua sotto in descrizione trovate tutti i link ai prodotti così potete andare direttamente a vederli vi lascio il mio codice sconto che è sure 17 ma vi lascio anche di quello il link per bene se volete diventare influenza e trovate anche quel link insomma aprite sempre la descrizione quindi dopo aver lavato la pelle passiamo allo scrub lo scrub è questo qui ed è si chiama fig scrub mask allora all'interno troviamo questa palettina che è bellissima in legno non l'avevo mai non l'avevo mai trovata bella bella e poi eccolo qui guardate che bello e bellissimo questo pecco veramente bello in colore particolare allora 123 questo è aperto quindi ve lo faccio vedere è così ha un buon profumo andiamo a vedere le sue società maschera scrub al fico contiene zucchero e polvere di fico per rimuorirci alle morte della pelle questo scrub non è solo uno scrub ma è uno scrub maschera lo scrub serve per andare a togliere le cellule morte e la maschera per andare a nutrire ma adesso vi spiego meglio scrub contiene contiene zucchero e polvere di fico che va a rimuovere le cellule morte della pelle quindi la polvere di fico elimina le cellule morte mentre lo zucchero aiuta a rimuovere le impurità lo scrub maschera si fa prima di applicare tutti gli altri prodotti perché questo eliminare le cellule morte aiuta ai nutrienti dei sieri delle creme ad agire meglio ed in profondità insomma ad assorbire meglio tutti i nutrienti allora si applica su tutto il viso in una giusta quantità come maschera e si lascia su 10 15 minuti quindi voi vi rilassate con la vostra maschera col vostro profumino di fico il tempo di posa bisogna bagnarsi le mani con acqua tiepida e fare movimenti circolari appunto per rimuovere tutte le cellule morte sul viso quindi andiamo bene 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 a sciogliere lo zucchero che nel frattempo si porta via anche tutto lo sporco e le cellule morte della nostra pelle per essere bene super idratate e luminosi poi passiamo a questo prodotto qui che si chiama robin ting ed è un face oil questo qui è il suo pack quindi questo è bello grande abbiamo il contogucce così non sbaglia cosa fa allora robin ting face oil è un pluripremiato e leggero olio per il viso quindi è top sono contenta di questi prodotti veramente hanno mandato secondo me il meglio che costruisce una barriera di idratazione per mantenere la pelle ben idratata e più soda miscelato con il 100 per cento di olio esenziale naturale di neroli a rapido assorbimento offre immediatamente una straordinaria facilità di idratare un effetto anti infiammatorio lasciando la pelle fresca e ringiovanita perché il segreto della skin care l'idratazione ovviamente tutti i prodotti devono riuscire a mantenere la pelle sempre bella idratata e quindi lascia la pelle fresca e radiosa non vedo l'ora di iniziare a provarli e non solo radiosa ma anche ringiovanita tocco ferolo sarebbe la vitamina e la vitamina e previene l'inchiamento della pelle infatti io uso la tritono la tri tritonoina ho detto il giusto e ho iniziato a ottobre ad utilizzarla volete sapere di più sul mio canale trovate il video magari ve lo lascio qui in scheda se mi ricordo se non avete domande scrivetemi nei commenti che vedete poi contiene lo squalono naturale idrata la pelle mentre l'estratto di semi di prognia europea rafforza e lenisce la barriera della nostra pelle ora si può usare in vari modi allora come booster si mette uno due gocce e si mescola nostro tonico e quindi si applica sul oppure si può prendere sempre una due gocce e si aggiunge alla nostra essenza oppure si può aggiungere alla nostra crema idratante quindi possiamo scegliere il trattamento il trattamento che vogliamo perché dà un effetto molto più nutriente finisher quindi possiamo anche usarla al fine mettiamo tutti i nostri prodotti anche la crema ma ma per ultimo usiamo uno di due gocce pichettate sul viso di questo olio andremo ad aiutare il prodotto a trattenere l'idratazione quindi aiuterà nostro viso a idratarsi durante il giorno e come proprio fine proprio punto fine fine finish possiamo mettere uno di gocce con il nostro fondotinta per avere un look più luminoso e radioso è molto interessante questo prodotto è molto interessante dire la verità tutti mi piacciono e però questo qui che si può usare in vari modi quindi col tonico anche in estate no magari non vogliamo un prodotto troppo idratante mettiamo due gocce di quello nel nostro tonico o nella nostra essenza e pochi passaggi ma siamo con due prodotti wow e super idratate che insomma è importante perché anche quando fa caldo la pelle si asciuga insomma bisogna un pochino di nutrimento o di trattenere proprio la propria acqua allora adesso passiamo a questo prodotto scusate ma fa un po il riflesso per se quanto è carino e carino allora si apre da qua su no no da qua si apre da qua che ho sbagliato qua abbiamo tutte le indicazioni e anche le lingue ma non c'è l'italiano ma non c'è l'italiano guardate che chicca si apre come un gioiellino guardate cioè veramente figo allora è questo qui ve lo faccio vedere è un'ampolla propolis si chiama royal vita propolis 33 ampolle è un siero brillante con estratti di pappa reale pappa b regina quindi il top tiene il 33 per cento di propoli pura che ripare e nutre naturalmente la pelle che è stanca e spenta protegge la pelle dai radicali liberi avviva e illumina previene la perdita di idratazione e protegge la pelle dai fattori esterni riduce le rughe e tono della pelle regolare si applica sul viso e si picchietta per farlo assorbire due gocce perché è miracoloso questo tossiero ultimo prodotto ovviamente la crema c'è anche questa è una non vi ho detto stupidamente che la crema l'ho fatta vedere io che stupido non mi ricordo comunque questa è la crema e della si chiama dynasty cream e occupatevi se non lo vedete qui lo vedete trovate in descrizione quindi andate sempre vedere la descrizione allora si presenta così una volta che mettiamo fuori la scatoletta ecco è caduto qualcosa troviamo un altro prendi crema un altro cucchiaino per prelevare la crema questa volta è trasparente e poi eccola qua allora di questa marca io prodotto ho provato un siero per il viso che era fantastico e poi il tonico il tonico sono prodotti top veramente di alto livello sono veramente buoni sono super da tanti perché veramente loro lavorano sull'idratazione oltre che a poi sulle rughe tutto quanto tutto il resto però l'idratazione super perché anche solo col tonico voi vi sentite idratate io ho provato in estate usare solo il tonico e non aver bisogno della crema quindi è veramente fantastica questa linea mi piace tantissimo sono contenta che mi ha mandato questa crema in modo che posso provare un altro prodotto perché ancora non l'avevo provata oddio sono la solita pasticciona vabbè mi idrata le labbra è in odore la crema è così allora mi sa che quali metto vi faccio vedere le cremine fatte bene ma seguirà un video di applicazione quindi mi raccomando dai qui sul mio canale perché uscirà il video dove proverò tutti questi prodotti passaggio per passaggio ok quindi andiamo a vedere questa crema siamo a dynasty cream e l'abbiamo già detto è una marca coreana usa pregiate e orientali per creare dei prodotti top per la cura della pelle producono prodotti per le donne ragazze barra ragazza dai 20 ai 40 anni migliora l'aspetto rugoso la disidratazione tonio cutaneo spinto ha una consistenza elastica e gommosa e poi ovviamente lo starete vedendo che forniti e che fornisce idratazione profonda e dona luminosità alla pelle appunto che abbiamo detto prima ha una capacità di rendere una forte barriera all'umidità contiene il 2 per cento di niaminacide il du più il 2 per cento di squalano e ala al potere di tenere la pelle idratata per ore contiene sempre nei suoi ingredienti il 29 per cento di acqua di crusca di riso e il 5 per cento di acqua di radice di ginseng estratto di miele olio di cartamo o cartamo estratto di frutta licio skineme e la crema questi sono tutti i miei prodotti super super idratanti anti rughe antiossidanti e chi ne ha più ne metta quindi sono felicissima di aver fatto appunto questo video per voi per darvi tanti prodotti nuovi buoni veramente super validi li trovate tutti sugli estai io vi lascio in descrizione come ho già detto tutti i link di riferimento ai prodotti anche il mio codice sconto che è sure 17 mi raccomando visitate il sito di gli estai andate a vederli ricordatevi sempre che ci sono sempre tanti scotti e tanti di questi prodotti sono già sono super scontati cioè c'è già lo sconto ma voi potete applicare il mio codice sconto per avere ancora ancora un po di sconto insomma sono accumulabili gli sconti ecco non mi veniva la parola quindi fatemi in giro fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se vi hanno convinto oppure no se ne avete anche da consigliarmi da prendere sugli estai io ho mai non sotto quanto tempo che prendo prodotti sugli estai ma uso sempre solo quelli mi piacciono tantissimo è un'altra storia rispetto alle nostre creme cioè vedi proprio la differenza e quindi continuerò così ringrazio tantissimo l'azienda per questa collaborazione spero di poterne fare altri con voi mi piacerebbe tantissimo e noi ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ma prima di andare via fatemi sapere cosa ne pensate dei capelli di duro mi piacciono tantissimo anzi sembra che mi faccia uscire il colore degli occhi ancora di più proprio sapere che cosa ne pensate voi e mi raccomando iscriviti al canale e seguitemi su tutti i miei social che trovate sempre in descrizione bye ciao 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 ciao